Per fare il punto della situazione e per studiare possibili soluzioni per fronteggiare il protrarsi della crisi, giovedì sera presso la nuova sede della Gruccia, CNA Valdarno ha indetto un'assemblea alla quale sono invitate tutte le aziende affiliate. Nella nostra vallata le piccole e medie imprese sono da sempre il cuore pulsante dell'economia, dunque l'incontro assume una notevole importanza. La nostra assemblea è un'assemblea congressuale in preparazione a quella provinciale, quindi questi appuntamenti facciamo poi anche un bilancio del percorso fatto e quello futuro. Tra le richieste che vengono avanzate dalle aziende c'è una semplificazione dell'accesso al credito. La richiesta specifica e di solito in tutte le assemblee ricorrente è anche il credito, perché oggi ci sono grosse difficoltà per accedere al credito, il sistema bancario è abbastanza chiuso al riccio e quindi le aziende, vantando anche crediti nei confronti sempre più crescenti, soprattutto nei confronti della propria clientela, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, c'è sempre ulteriore bisogno di accedere al credito e quindi di assistenza da parte degli istituti di credito. CNA sta lavorando anche con gli enti locali per cercare di tutelare le aziende alle prese con la nuova tassazione riassunta con le sigle IMU e TARES. Certo la situazione economica è difficile, ma in Baldarno stiamo lavorando attraverso confronti continui anche con le istituzioni locali, relativamente anche a quelle che sono le problematiche delle tassazioni locali, in particolar modo abbiamo un tavolo aperto con la conferenza dei sindaci. CNA infine invita tutte le aziende affiliate a partecipare. Quindi invitiamo tutti gli associati a partecipare, saranno presenti anche il direttore provinciale della CNA, il presidente e il sindaco di San Giovanni, nonché il presidente della conferenza dei sindaci, Maurizio Belligiardi.